Il Monte Negra è un pubblico parlamentare con capitale podgoris. Confine con Bosnia, Herzegovina, Serbia, Albania e Croazia ha fatto parte della Jugoslavia. È affacciato sul mare adriatico. Il territorio è prevalentemente montuoso con una stretta fascia pianeggiante lungo la costa e intorno al lago di Skudarik. I rilievi sono riconverti da fitti boschi che hanno dato il nome al paese. Il clima è continuitale all'interno e mediterraneo sulla fascia costiera. La moneta che utilizza il paese è l'euro, anche non fa parte del UE. La lingua parlata è il Montenegrino che ha la superficie di 13.812 km2 con popolazione di 100.796 abitanti e la densità di 46 abitanti km2. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.